Un consiglio comunale senza opposizioni che stazionano fuori dal municipio per protesta contestata alla modalità in streaming. Le minoranze invocano anche un patto anti-covid segnalando la chiusura totale sulle proposte avanzate da parte dell'amministrazione. Il sindaco lascia aperta la porta ma distingue tra chi mistifica e chi intende realmente collaborare. In aula intanto passa la esternalizzazione del servizio tributi per i prossimi sei anni e la modifica delle funzioni della partecipata Avellino Città Servizi. Col project financing sui parcheggi e l'automazione del servizio di sosta sarà possibile destinare anche ad altre funzioni i dipendenti, dalla guardiania alla manutenzione, in arrivo forze fresche. Sui tributi, Cuzzola spiega, nessuno di noi sarebbe per esternalizzare se avessimo dipendenti a sufficienza per affrontare le varie problematiche. A concludere la seduta, l'approvazione di parte dei debiti fuori bilancio. L'obiettivo dell'amministrazione è riuscire a liquidare entro fine anno almeno la metà del totale dei creditori.